Ciao a tutti, oggi parliamo di tasti o simboli applicati sulla saldatrice TIG Questo simbolo è della saldatura ad elettrodo Una volta in funzione possiamo attaccare la torcia ad elettrodo e regolare la corrente Questo tasto permette di saldare a due tempi Il significato dei due tempi è che per saldare bisogna tenere premuto il polsante sulla torcia Il due tempi è collegato anche con i parametri della curva della saldatura Per esempio abbiamo il PGI sarebbe il bagno della saldatura Mentre il TDI permette di regolare i secondi della chiusura del gas una volta terminata la saldatura Questo tasto per il quattro tempi una volta digitato fa partire la saldatura in continuo Anche il quattro tempi è collegato ai parametri della curva della saldatura Questo tasto permette di saldare con corrente normale e collegato con i parametri della curva di saldatura Questo simbolo permette di attivare e disattivare della modalità in polsato Per sapere di più sulla modalità in polsato vi lascio nella descrizione Un video che è stato effettuato spiega come regolare il polsato con la saldatura TIG arco polsato modalità polsato Ultimo simbolo che abbiamo oggi parla dell'alta frequenza Nella descrizione vi lascio il link che spiega come funziona la modalità in polsato e alta frequenza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti